Bentornati a PG Sao. Nella mattinata di ieri, il noto muratore Noiz Narcos racconta del suo rapporto con Cicoria. Lui era geloso. Queste le parole usate dal muratore. Vi lascio al video. Era il 15 gennaio 1935 quando vidi la prima volta Er Cicoria. Un tipo magarolino innocuo pieno di felicità e voglia di vivere. Io lo abbracciai subito dal primo giorno che lo vidi. Diventano grandi amici tanto da dormire assieme nello stesso lettino. Dopo circa tre anni di relazione Cicoria inizia a comportarsi in modo strano, dice che io lo tradisco, che scopo con gli altri, era geloso. Non mi preoccupai più di tanto finché una notte, mentre rientravo a casa, vedo Er Cicoria nascosto dietro un albero davanti a casa mia con un cannocchiale. Io gli chiedo cosa combini qua da solo. Lui dice stavo comprando del sale fino dal negozietto. Allora lo saluto e entro in casa. L'indomani vado all'Eurospin e trovo Cicoria nascosto dietro delle casse d'acqua che mi spiava. Faccio finta di niente. Dopo 42 giorni Cicoria mi manda un MMS con scritto, dov'eri ieri sera sono geloso di te. Allora ho preso la bicicletta graziella di mio zio e vado sotto casa sua, suono il campanello, lui scende e gli do tanti schiaffi in faccia. Lui piange e dice di essere innamorato. Allora gli do un calcio nel petto e gli dico che fa schifo. Lui mi denuncia alla polizia postale. Attualmente ci vediamo spesso in tribunale e lui mi fa le pernacchie.